Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nel Stagno. Oggi parleremo degli automobilisti, dei loro problemi, dei loro diritti, ma perché no anche dei loro difetti. In questi giorni, grazie ad alcune puntuali operazioni delle Forze dell'Ordine, anche nel nostro territorio è tornato alla ribalta il tema della sicurezza stradale, tuttavolta messa a rischio anche da alcuni comportamenti inappropriati, qualche volta anche un po' incoscienti, di alcuni automobilisti. In questa puntata dunque le nostre telecamere si puntano sulla strada e su chi la percorre al volante, gli automobilisti appunto. In Italia c'è un ente che per definizione è il club degli automobilisti, è l'Automobil Club d'Italia con alle spalle più di cento anni di storia e con oltre un milione di soci. L'Automobil Club è una federazione che comprende 103 automobil club sparsi in tutta la penisola e uno di questi automobil club è presente anche nella nostra provincia con sede a Domodossola. Dal luglio del 2021 l'Automobil Club VCO è presieduto dal nostro ospite che è il professor Giuseppe Zagami che ringrazio per la sua disponibilità. Grazie per l'invito. Di origini messinesi lei, vero? Esatto. Ma da tempo residente in Lombardia? Più di vent'anni. Più di vent'anni. È un volto molto conosciuto nel nostro territorio, direi ancora prima che diventasse presidente dell'Automobil Club perché è da molto tempo un organizzatore di rally, in particolare ricordiamo il rally dei Due Laghi e il Valle Ossolane. Il nostro Automobil Club ha una lunga storia alle spalle perché risale al 1929 quando fu fondato l'Automobil Club di Domodossola che è poi diventato l'Automobil Club del VCO quando siamo diventati provincia non autonoma ma ci siamo staccati da Novara. Ecco l'Automobil Club del VCO ha sede a Domodossola ma ha delle delegazioni a Verbagna, Omenia e anche a Cannobbio. Cannobbio, sì, sono le tre delegazioni in cui noi facciamo molto riferimento perché sono un punto fermo sul territorio e quindi ovviamente Domodossola come sede centrale ma è importantissima anche le nostre delegazioni che rappresentano l'Asia e tutti gli effetti con tutti i servizi, tutte quante le diciamo... Un particolare originale, con la nascita della nuova provincia tutti i servizi provinciali sono confluiti su Verbagna. L'Automobil Club è rimasto fedele alle sue origini. Esatto, questa è una cosa molto particolare perché anche il Pra e la motorizzazione sono rimasti a Domodossola e quindi siamo molto contenti, infatti molto sentito l'ente dagli ossoani ed è per questo che abbiamo voluto fortemente le delegazioni sparse su tutto il territorio perché comunque non vogliamo solo essere un punto di riferimento per le valli ma anche per i laghi. Senta Professor Zagami, iniziamo dalla cronaca. Ecco, come commenta il recente allarme lanciato dalle Forze dell'Ordine per l'aumentare di patenti ritirati soprattutto nel weekend ad autoguidisti trovati con tassi alcolemici eccessivi? Intanto mi lasci dire una cosa importantissima che Asci da sempre è a fianco delle Forze dell'Ordine e quindi li ringraziamo per il lavoro immane che fanno, ringraziamo ovviamente il questore, il prefetto e i vari comandanti di compagnia che sono fondamentali per ovviamente il controllo del territorio. Purtroppo questo è un problema che nel 2021 è venuto alla ribalta perché nel 2020 con il fatto del Covid le statistiche hanno detto che ci sono stati meno incidenti. Le do un dato, su 140.000 automobilisti che ci sono nel VCO nel 2021 abbiamo avuto 380 incidenti di cui 4 mortali, mentre l'anno prima erano stati il 70% in meno, però con 9 incidenti mortali, quindi paradossalmente nel 2020 ci sono stati incidenti un po' più gravi. Questo è un dato che deve far riflettere ed è un dato che secondo me bisogna partire dalla base, cioè il fatto di andare nelle scuole è quello di dire appunto che il bere si può fare responsabilmente ma non bisogna mai guidare, quando si va a bere si vuole divertirsi perché uno è giovane ovviamente ha il diritto di divertirsi ma ha dei doveri molto importanti sulla strada e quindi bisogna secondo me partire dal basso, dalla base, dai ragazzi e dire attenzione andiamo a divertirci ma se vuoi bere non guidare. Certo, diciamo che ovviamente il fatto del ritiro delle patenti per tasso alcolemico elevato è semplicemente la spia di un fenomeno più ampio, nel senso che poi lo vediamo, anche quelli che non vanno in auto, spesso nei fini di settimana abbiamo atti vandalici che non c'entrano niente con l'automobilismo ma è un dato purtroppo culturale, di educazione proprio non solo dei giovani, nella nostra zona diciamo che l'alcolismo è un dato che purtroppo è datato da molti anni e quindi adesso pare che abbia coinvolto anche i giovani, quindi non è per colpibilizzare la categoria degli automobilisti, è un dato sociale più ampio. E' chiaro che sull'automobilista se c'è qualcuno che guida in stato di ebrezza viene un po' accentuata, però anche perché hanno esprito giustamente le pene con l'omicidio corposo da stradale, quindi ecco perché bisogna fare molta attenzione perché è un attimo passare da essere liberi e poi avere grossi problemi con la giustizia, giustamente nelle scuole bisogna partire dalle scuole. Ecco, infatti questo volevo chiedere, voi fate qualche iniziativa di educazione stradale nelle scuole? Sì, è uno dei nostri must, quello di ogni anno intraprendere dei percorsi con le scuole, con ovviamente il proprietorato degli studi, c'è proprio una sezione dedicata alla sicurezza stradale e quindi noi interagiamo con le varie scuole sia elementari che medie e quest'anno ad aprile del 2022. Domodossola, l'asci del VCO, è stata una delle nove Automobile Club a poter portare a Domodossola appunto karting in piazza che è uno strumento bellissimo di educazione stradale dove ci sono stati 300 bambini che hanno prima ovviamente visto le regole, cosa si può e cosa non si può fare. E poi ovviamente c'è stato il momento ludico di questi bambini che hanno fatto un giro con i kart. Rispettando le norme del codice stradale. Esatto, ma questo è uno dei tanti progettini che noi stiamo sviluppando. Il prossimo anno con le scuole superiori, già siamo d'accordo, il prossimo anno ovviamente si intende, il 2023, di fare delle, si chiama la conferenza dei graffi dell'anima, è una conferenza che viene fatta all'interno di un teatro con dei ragazzi delle scuole superiori e ci saranno dei testimoni che verranno a testimoniare, sono delle persone che hanno avuto degli incidenti statali che grazie a Dio sono riusciti a salvarsi e quindi verranno a raccontare la loro esperienza. Tra l'altro la nostra televisione negli anni scorsi ha sostenuto molto la richiesta dell'introduzione nel codice dell'omicidio stradale perché nella nostra zona c'è un gruppo di genitori che hanno visto i loro figli morire in incidenti statali provocati da comportamenti inappropriati e questi sessi genitori poi erano andati nelle scuole anche loro a raccontare il loro dramma dei genitori e ho visto che i ragazzi rimangono molto colpiti da queste testimonianze, sia dei genitori che hanno perso dei figli sia di quello che lei citava, quindi credo che siano delle belle iniziative. Bisogna partire dai ragazzi, io sono un insegnante e quindi ho molta fiducia nei ragazzi perché i ragazzi sono molto più svegli rispetto alle generazioni passate e recepiscono sia i messaggi positivi ma anche soprattutto quelli negativi in maniera molto veloce, quindi bisogna fare attenzione e quindi puntare esclusivamente su dare dei messaggi positivi, propositivi ai ragazzi, ma anche non prendiamoci in giro dicendo divertitevi perché è una cosa che abbiamo fatto tutti, però con cognizione. Senta, io ho letto che l'Automobile Club, cito testualmente, difende i diritti alla mobilità degli automobilisti. In che senso? Ma è un complesso, diciamo, è molto complicato, però l'Automobile Club è atto a promuovere la cultura della mobilità in sicurezza. Questo lo fa come? Ovviamente con delle attività che vengono fatte sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale. A livello nazionale mi vengono in mente le conferenze sulla sicurezza delle strade che si fanno normalmente con le varie prefetture. A livello internazionale l'Automobile Club organizza un forum internazionale delle polizie locali dove ci si può confrontare anche con delle attività ovviamente che vengono fatti in territori stranieri. Oppure noi siamo, diciamo, partner di Onda Verde, quindi ACI, Onda Verde, quello che tutto riguarda le informazioni sulla mobilità. Altro strumento molto importante che fra qualche giorno ve ne parleremo, che si è attivato a Verbania e a Domodossola, un progetto che si chiama Luce Verde, che controlla fondamentalmente le criticità del territorio di Domodossola e Verbania. Ecco, ci sono tante attività. La fondazione Caracciolo, che è una fondazione che proprio serve per fare studi di ricerca sulla sicurezza e sulla mobilità. Infatti in questi ultimi periodi abbiamo lanciato una statistica negli ultimi tre anni su paese per paese, città per città, strada per strada del Verbanio Cusiossola, dove sono le strade ovviamente più critiche. E non per ultimo, dal 2004, l'autodromo di Vallelunga è sede permanente di guida sicura. Ecco, quindi queste sono alcune delle attività di ACI. Lei ha citato la conferenza nazionale sul traffico, io ricordo che per molti anni si svolgeva a Stresa, negli anni 70 fino ai 80, si svolgeva a Stresa, era un appuntamento fisso e poi era stata trasferita a Riva del Garda, che evidentemente il lago di Garda aveva fatto concorrenza al lago maggiore. Io sono presente da un anno e mezzo, ringrazio tutti i ragazzi che ci lavorano perché sono veramente incredibili e sono veramente anche degli appassionati degli automobilisti perché fanno il loro lavoro con dedizione. Però adesso voglio approfondire il discorso di mobilità e sicurezza perché ovviamente l'ACI ha un dovere proprio intrinseco del suo statuto, quello di appunto mandare dei messaggi propositivi e dare un sostegno anche alle istituzioni, quindi collaborare con le istituzioni qualora ce ne fosse bisogno per elaborare un piano di mobilità e sicurezza. Ecco, poi vedo sempre nei vostri documenti che parlate di mobilità sostenibile. Questo naturalmente ha uno sproveduto, posso andare un po' strano, ma come le auto sono quelle proprio che vengono accusate di inquinamenti atmosferici eccetera, parlano di mobilità sostenibile, proprio questi automobilisti. Sì, sì. Guardi, le dico subito che secondo me la scelta dell'Europa del 2000, la famosa del 2035 è una scelta scellerata. È una scelta che ovviamente... Ricordiamo che la scelta è che dal 2035 non potranno essere più prodotti auto, quindi rimarranno quelle che ci sono. Sì, ma è scelerata per due motivi, anzi forse anche tre. Il primo motivo è quello che ovviamente le nostre fabbriche hanno un indotto particolare e molto importante sulla creazione dei vari componenti del motore a combustione, questo è uno. Due, e quindi ovviamente l'economia ne andrà a perdere sicuramente qualcosa. Due, non è detto che lo smaltimento delle famose batterie sia sostenibile come adesso pensano, quindi io credo che c'è da fare invece un lavoro diverso, un lavoro sempre di unione, di intenti fra i produttori e anche ovviamente il Ministero delle Infrastrutture e noi di ACI per cercare di dare una svolta sì al motore a combustione, però cercando di usare la tecnologia in maniera corretta, perché secondo me il discorso delle famose batterie non è la via di uscita. Scusi, questa è una posizione sua personale o dell'automobile club? Dell'automobile club e ovviamente anche mia. Certo, naturalmente, perché è un tema su cui si dibatte, perché il nuovo Ministro delle Infrastrutture Salvini la pensa esattamente come voi, gli ambientalisti naturalmente non la pensano come voi. Ma perché noi abbiamo degli studi, non ci basiamo soltanto esclusivamente su una sorta di forma mentis pro-imprenditoriale, noi abbiamo degli studi dove ci dicono che le batterie elettriche non è la soluzione, tutto qui. Tra l'altro devo anche dire che l'Italia da questo punto di vista comunque è molto indietro rispetto ad altri paesi. Ha maggior ragione. Ha maggior ragione, appunto, dice. Nei paesi nordici ci sono molto più, le semplici colonnine per... Ma faccio un esempio banalissimo, se io vivo a Roma ha un senso di usare la auto elettrica, vivo a Milano ha un senso, esatto, mobilità urbana ha un senso di utilizzare l'elettrico, ma se io sto in un territorio ampio come potrebbe essere quello del BCO, difficilmente io riuscirei a fare da Valformazza fino a Stresa. Naturalmente queste sono opinioni rispettabilissime, poi vedremo come finirà. Benissimo. La sicurezza stradale è spesso, abbiamo detto, messa a rischio da comportamenti inappropriati dagli automobilisti. Pensiamo proprio in questi giorni al pirata della strada che nella zona di Vogonia ha investito una persona e non si è fermato. Però a volte a compromettere questa sicurezza è anche lo stato di salute delle nostre strade. Ecco, qual è lo stato di salute delle strade nel Verbano Cusiossola, considerando anche che noi siamo una zona montana? Ma guardi, io devo essere sincero, hanno fatto dei lavori importanti sulla superstrada in questi anni, hanno rifatto il manto stradale, l'ANAS sta facendo un lavoro importante nelle varie strade della Valle Vigezzo, mi viene in mente, però è chiaro che è entrata da poco. Devo essere sincero, secondo me le strade non vivono un brutto momento, noi non stiamo in un... le sono abbastanza positive. Ne vedo alcune dando in giro per l'Italia che sono molto peggiori. Certo, è chiaro, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna sempre cercare di trovare il meglio. Probabilmente adesso che abbiamo qualche risorsa in più bisogna puntare sui nuovi rail, ecco, soprattutto nelle strade provinciali di montagna. Ma voi fate un monitoraggio della situazione delle strade? Sì, 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 il monitoraggio lo facciamo sempre, mettiamo a confronto ovviamente spesso con la provincia e con l'ANAS, con gli enti proprietari delle strade, ovviamente. La semplice buca non è ovviamente il problema del generale, quindi si va a parlare su strumenti di sicurezza che possono essere all'avanguardia e quindi questo auspico io che nelle strade provinciali, quelle di montagna soprattutto, mettere dei rail, come in alcuni punti delle strade ci sono già, ecco, quindi non vedo così male le strade. Benissimo, ecco, la speranza che hanno gli automobilisti però che l'ANAS faccia i lavori ma li faccia anche in tempi non biblici, perché abbiamo dei cantieri sulla superstrada che sono lì da mesi, mesi, mesi. Immagino, però immagino che anche la burocrazia purtroppo non ci aiuta in questo, snellire la burocrazia potrebbe aiutare sicuramente anche enti importanti e facoltosi, perché comunque l'ANAS è un ente facoltoso come l'ANAS a fare i lavori e gli interventi che necessitano le strade. Per molti l'Automobil Club è anche uno sportello, un ufficio dove andare a fare delle pratiche, giusto? Quali sono i servizi che voi fornite? Sì, 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 noi ovviamente ogni giorno accogliamo decine e decine di automobilisti che vengono a fare le pratiche che possono essere dal pagamento del bollo, dalla gestione ovviamente del rinnovo dei patenti, dal tesseramento del socio ACI, non dimentichiamo che ACI Global che è un partner di ACI è quello che permette a chi, tra virgolette, rimane a piedi se è tesserato ACI a essere trasportato e quindi soccorso. Quindi il soccorso stradale è un must, anche quello di ACI e quindi col tesseramento permette, tra l'altro permette anche di andare a fare i recuperi anche all'estero, quindi questa è una cosa molto importante. E poi ovviamente le licenze sportive, quindi comunque lo sportello ha tutte le pratiche auto, passaggi di proprietà, immatricolazioni, quindi tutto quello che riguarda l'automotive in 360 gradi lo possiamo fare. In sostanza voi in questo caso svolgete anche un ruolo pubblico, di un servizio pubblico? Assolutamente sì, noi siamo tutti gli effetti accreditati con la regione Piemonte per quanto riguarda il pagamento, la gestione, la ricerca dei bolli ad esempio, quindi a tutti gli effetti è uno sportello dove chiunque può venire e usufruire dei servizi. Leggo sempre nei vostri documenti che l'attività di Automobile Club in favore dei suoi soci, in generale del pubblico italiano e degli utenti della mobilità, travalica i confini nazionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che ACI è sempre stato un ente che ha visto nel turismo come una risorsa molto importante. Il turismo ovviamente inteso come il nostro associato va all'estero e quindi può ad esempio sul sito Viaggiare Sicuri, che è un sito che viene fatto con ACI e il Ministero delle Infrastrutture, informarsi e formarsi sulla strada che andrà a percorrere l'associato. Non dimentichiamo, come ho detto poc'anzi, che se un associato dovesse rimanere in panne, la tessera ACI garantisce il recupero anche all'estero. Ecco perché il turismo e ACI viaggiano a braccetto. Senti, vediamo un argomento che a lei so che piace tantissimo, è anche un'attività sportiva come Automobile Club, giusto? Sì, diciamo che l'Automobile Club è l'unico ente autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture a organizzare gare. Non lo dico io, non lo dice ACI, lo dice l'articolo 9 del Codice della Strada. Questo articolo permette a ACI di dare i permessi a chi volesse organizzare una manifestazione, ovviamente con dei parametri e paletti sulla sicurezza molto particolari, di fare una manifestazione. ACI da quest'anno ha ripreso le attività sportive, abbiamo fatto un'amministrazione bellissima che si chiama Ruote nella Storia, che è un'amministrazione che prende, diciamo, delle macchine storiche, quindi qui nella zona abbiamo tantissimi utenti di macchine storiche e si va a visitare i posti più belli del nostro territorio. Ad esempio, quest'anno abbiamo fatto la partenza da Pallanza, c'erano 52 autovetture, abbiamo dovuto pure addirittura chiudere in anticipo le iscrizioni perché abbiamo raggiunto il massimo, 52 autovetture che poi sono andate da Mergozzo, sono passate da Stresa, a Baveno, abbiamo fatto l'aperitivo e poi abbiamo preso il battello e siamo andati con i soci di ACI Storico e di ACI al ristorante Delfino. Questa è una delle attività, poi ovviamente sul territorio abbiamo le attività sportive. Esatto, beh, non si può non parlare dei guerreri delle Valle Ossolane. Lo dico, sa perché? Perché questa televisione nel 1980 è nata trasmettendo la telecronica del rally delle Valle Ossolane, quindi anche noi siamo legati. Me lo dicono spesso e questo mi fa veramente piacere. Quest'anno è la 59esima edizione, è la quarta gara più antica d'Italia, quindi è una gara importantissima e ancora da oggi quest'anno abbiamo il record di iscritti come 166 iscritti, quindi nessun rally ha fatto meglio in Italia quest'anno, ovviamente parlo del 2022. Il Valle Ossolane è forse una delle manifestazioni storiche più importanti del territorio perché richiama centinaia e migliaia di persone, non soltanto i piloti stessi ma anche appassionati, team, tutto quello che poi crea un indotto economico e quindi crea un indotto per il turismo e quindi io sposo sempre il discorso manifestazioni sportive con turismo e nel stesso frattempo ovviamente economia. Qualche altro rally organizzate come Automobile Club del VCO? Ma allora, l'Automobile Club non organizza rally ma è patrocinante dei vari rally. Un altro rally che organizziamo è il rally Due Laghi ed è un rally che ovviamente è nato sulla sfonda del Lago d'Orte e Lago Maggiore, quest'anno avrà come sede Baveno. Se ho un minuto vorrei dirvi che il 27 novembre a Domodossola faremo una manifestazione bellissima che si chiama Happy Rally Day, Happy H che sta per Handicap. In popolare ci sarà un pilota che è paraplegico che si chiama Alessandro Cadei che verrà a Domodossola e con i suoi strumenti utilizzerà una macchina rally e farà girare oltre 100 ragazzi disabili. Quindi questa è una dimostrazione di inclusione e dell'inclusione. Quindi per noi ACI è molto importante dare anche questo messaggio che nelle difficoltà si può. Il 27 di novembre. Pensi che il 26 a Villa Dostola ci sarà il GSH Sempione, gruppo sportivo di disabili, che farà i suoi 40 anni. Bellissimo. Lo sport proprio come inclusione sociale. Magari li invitiamo anche il giorno dopo. Potrebbe essere una bella idea. Senta, stiamo alla fine. Una domanda però. Lei oltre a organizzare i rally? Ha fatto i rally anche? Ho fatto, sì. Diciamo che io ho fatto da Zavorzo. Ho fatto un paio di rally di Monza con qualche amico. Tra l'altro ho debutato con Massimo Margaroli, Ossolano Doc e poi con altri amici. Però sì, diciamo che io mi occupo di organizzarli. Ecco, il navigatore e corre, pilotare, li lascio a chi è più esperto e chi davvero sa cosa fa in macchina. Senta, l'Automobile Club è ovviamente un ente pubblico. Ha dei dipendenti, no? Assolutamente, sì. Quindi voi avete anche quanti dipendenti? Abbiamo sei dipendenti. Proprio nella sede di Domodossa abbiamo sei dipendenti. che saluto e ringrazio, che con il loro impegno riusciamo sempre a portare dei numeri importanti. È un ente pubblico che crea utile, quindi è incredibile anche questo perché... È il secondo ente utile. La settimana scorsa avevamo qui il Presidente delle Case Popolari. E anche l'ATC è inutile. Quindi cominciamo a sfatare questa leggenda. Sarà un vizio del VCO. Speriamo, ecco. Sarà un vizio o una virtù del VCO. O una virtù. Benissimo. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io la ringrazio davvero. Ringrazio per la sua cortesia. Grazie a voi. Il Presidente dell'Automobile Club del VCO, Giuseppe Zagami. Faccio un augurio di buon lavoro. Grazie. E a tutti voi che ci avete seguito, oltre al grazie, un arrivederci alla prossima settimana, sempre qui al Sasso, nello Stagno. Arrivederci. Grazie a tutti.